condizionato la mia vita io da bambino ho sofferto tantissimo queste sofferenze hanno condizionato la mia vita commento sì perché la tua vita è stata quelle sofferenze che condizionano ancora la tua vita perché non ne hai affrontato le cause tu continui a dare la colpa a quello che è successo all'esterno di te alla tua famiglia ma all'esterno di te ci può essere solo il pretesto non la spiegazione della tua sofferenza